Ciao a tutti e bentrovati a Tell Me Wine, il momento della giornata in cui scopriamo assieme un vino alla cantina del Cerro, ovvero con un occhio all'origine e un altro alle sensazioni che trasmette. Senza dimenticarci che il vino è un'esperienza da condividere. State con noi fino alla fine per scoprire come possiamo condividere insieme questo vino, a parte ovviamente provarcelo poi tutti insieme a casa. Allora, oggi parliamo del Rosso 281, il novello di cantina del Cerro. Allora, la prima precisazione che c'è da fare quando si parla di novello è che il vino novello non è solo un vino nuovo, ma è anche, cioè ma è un vino nuovo che ha fatto una, le cui uve hanno fatto una lavorazione particolare, che è la fermentazione a grappolo intero o la macerazione carbonica, nel quale praticamente l'uva raccolta prima di essere ripigiata, viene posta in delle stanze a tenuta stagna e riempita, queste stanze vengono riempite con anidride carbonica. In questo modo il grappolo appunto ancora intero andrà a fare una fermentazione interna che permette quindi di estrarre molto bene dalla buccia alcuni aromi particolari che sono di solito appunto quelli molto solubili in alcol e tra le altre cose si otterrà un vino che ha una bassa acidità. Comunque avevamo fatto un video su questo argomento, vi lascio la descrizione, il link nella descrizione. Allora, noi scegliamo di usare il Cabernet Sauvignon del Veneto per fare questo lavoro, perché è un vitigno che è molto ricco di queste tipologie di aromi, appunto, che poi ritroveremo nei profumi. Bene, direi che ci siamo, andiamo a provare il vino. Come la tradizione, oserei dire, vino di Cantina del Cerro, tappo corona, perché ne si ingilla perfettamente il contenuto. Per questa tipologia di vino poi è fondamentale, perché appunto non deve fare microossigenazione. Allora, vediamo subito il colore, che è un'altra delle caratteristiche del novello, perché andando a intaccare la buccia, prende molto molto bene il colore e abbiamo un colore che è un rosso molto intenso, con dei riflessi violacei. Il profumo è un'altra caratteristica. Pensate che proprio si è notato mentre lo versavamo. è un profumo molto intenso, proprio di frutta, si sentono molto i frutti rossi. In bocca ritroviamo questa nota molto bella fruttata, bella piena, è proprio molto piena in bocca, è avvolgente. Ha un sentore molto morbido, però senza andare nel dolce. Ritroviamo proprio un po' l'uva, ma con meno dolcezza, insomma, perché comunque si sente anche poi sul finire una leggera nota alcolica. Parliamo di un vino che siamo intorno agli 11 gradi e mezzo. Allora, il novello è uno dei vini che si fa un po' fatica a abbinare, proprio per questa nota, tra l'altro, molto intensa. Allora, sta sicuramente bene con tutti i formaggi, principalmente con, tipo, non so, la toma e il taleggio. Potrebbe magari, sarebbe anche magari da provare con un buon gorgonzola. Sta molto bene anche con i funghi, quindi tutti i piatti anche a base, magari una bella pasta con un sugo di funghi, insomma, così. E, incredibilmente, perché è uno dei, forse l'unico vino con il quale si può abbinare, con i carciofi. Che, tra l'altro, diciamo, tenderanno ancora di più a esaltare questo sapore molto fruttato. Vi ricordo che lo trovate sempre nei nostri punti vendita, info.cantine.delcerro.it e, come ormai in questa nuova stagione, lo potete provare domenica, questa che arriva, 21 novembre, qua nella sede dei nostri amici di Dinamico. Organizziamo un evento in base tecnologia, nel quale c'è stampa 3D e realtà virtuale, ma poi breve aperitivo e troviamo questo vino qua. Che, insomma, come vi dicevo, essendo proprio una lavorazione particolare, beh, dai, sta bene con la tecnologia. Vi ricordo, come sempre, che il vino è un'esperienza da condividere. Fateci sapere cosa ne pensate del Novello 281 e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!